Benvenuti. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo della postulazione, un mondo che ha ancora tanto da raccontarci. Oggi ne parliamo con la dottoressa Viviana Castelli, presidente di Stepnet OTV e vicepresidente di CTS Gifted APS ed accreditato al Ministero dell'Istruzione per la formazione nonché autrice di diversi libri sul tema di progetti e con il professor Fabio Giona, dirigente scolastico dell'Istituto Bragaglia di Frosinone e presidente del CTS di Frosinone, capofile dei CTS del Lazio. Benvenuti. Dottoressa Castelli, lei è impegnata da molti anni ad accendere i riflettori in tutta Italia sul tema della postulazione cognitiva. Ci aiuta a capire meglio chi sono i bambini e i ragazzi gifted? Quali sono i loro punti di forza e le loro debolezze? Eccoci qua, buongiorno, grazie di questo invito, è un momento importante per parlare di questi bambini e di questi ragazzi. La prima cosa che mi sento di dire è che vorrei veramente uscire dai miti e dei pregiudizi che possono alleggiare intorno a loro, perché per fare chiarezza dobbiamo un po' metterci dei nuovi occhiali che si focalizzino veramente sulle loro peculiarità, e le loro capacità e le loro qualità. Spesso questi bambini arrivano con misdiagnosi, con sospetti di essere dei bambini che hanno delle problematiche, quando invece la prima cosa che dobbiamo dire è che ci troviamo di fronte a un numero considerevole di studenti, di bambini e di ragazzi, perché la ricerca scientifica li attesta intorno al 5-6% della popolazione, che hanno delle particolarità di apprendimento, delle particolarità di sentimento, di sensibilità, di lettura della realtà e modalità differenti di interpretare informazioni e di rielaborarle. Se dovremmo dirlo scientificamente sono dei bambini che hanno uno sviluppo atipico neurocognitivo delle capacità. Questa parola però non ci deve indurre a pensare che stiamo patologizzando, infatti voglio uscire da tutto questo aspetto, il primo mito e pregiudizio da sfatare, ma sono dei bambini precoci che hanno uno sviluppo atipico rispetto allo standard, perché noi chiaramente lavoriamo sullo standard, che porta però a un valore aggiunto, a una qualità alla persona e al gruppo, alla società, ai sistemi territoriali in cui vengono inseriti così nei loro percorsi formativi di crescita. Come possiamo vedere che ci troviamo di fronte a dei bambini e dei ragazzi così particolari? Fin da piccolini si possono notare dei preditori significativi e sono tutte delle qualità bellissime che possono veramente dare un aspetto diverso anche alla nostra azione di educatori, sia che siamo genitori, sia che siamo insegnanti, sia che siamo dirigenti scolastici, sia che siamo esperti della salute. Sono molto precoci spesso nella prima fase di vita, nel primo anno di vita rispetto a quegli schematismi psicomotori che conosciamo tutti nelle fasi evolutive. Sono anche spesso precoci nella parola, non tutti, però molto spesso ritorno a questo fatto che imparano a parlare improvvisamente con un linguaggio per la loro età complesso e forbito. Se poi hanno delle caratteristiche specifiche in alcuni ambiti, in alcuni domini, possono essere precoci nella leadership e nella parte sociale, potrebbero esserlo negli aspetti matematici o logico-matematici, nella lettura e nella scrittura. Questi sono gli aspetti più evidenti, più accademici, ma le altre qualità che loro hanno sono quelle dell'introspezione, dell'empatia, di farsi domande, io li chiamo un po' i bambini metafisici, domande profonde sulla vita e sulla morte, sugli aspetti della solidarietà umana, dei valori quali la giustizia. Quindi sono dei bambini profondi, dei bambini curiosi, dei bambini interessati all'uomo e alla vita e amanti della conoscenza, non sicuramente del nozionismo e delle cose banali. Ecco, facciamo anche un punto sulla normativa. Certo, allora, qui è il lavoro grosso che ha fatto tutto il team di volontari professionisti che prestano le loro capacità, l'associazione che io rappresento, che è un'associazione di volontariato Stepnet, ma rappresento anche questo ente formatore che fa ricerca, fa formazione e fa progetti per questi ragazzi, per le loro famiglie, per le scuole, che è CTS Gifted. Negli anni in cui ci siamo impegnati, io me ne occupo da moltissimi anni, personalmente da più di 15 anni, con i miei enti da più di 11 anni. Mi sembra che è passata una vita perché ci siamo impegnati fortemente nel lavorare con le istituzioni primarie, quindi il Ministero, la Commissione 7 della Camera dei Deputati, con i provveditorati, con le scuole, e qui siamo in compagnia di una persona illuminata, e poi con i vari territori locali. Per fare che cosa? Per portare la tematica, perché l'Italia è stata, e lo è ancora in parte, un fannalino di coda rispetto alla comunità europea sull'includere e sul riconoscere i diritti anche di inclusione scolastica e di diritto allo studio per questi ragazzini. Questo lavoro ha portato, con il contributo di tantissime persone, a stimolare le istituzioni massime e quelle territoriali, per cui a livello normativo possiamo dire che nel 2018 è stato istituito un tavolo tecnico, di cui io sono membro, per scrivere linee guida nazionali, che spero prima o poi vengano emanate, perché darebbero un po' un'indicazione oggettiva e nazionale, perché è vero che noi ci possiamo muovere in virtù dell'autonomia scolastica, ma avere comunque delle indicazioni di guida uguali dalla montagna, dalla Val d'Aosta alla Sicilia sarebbe ottimo, perché altrimenti facciamo molta sperimentazione, molta ricercazione, questo fa il mio ente, però è bisogno di concretizzare e possiamo portare questo lavoro in tutte le regioni d'Italia. Rispetto alla tutela dei loro diritti, diciamo che una nota del 2019, la nota 562, ci dice che possono essere inseriti all'interno degli studenti BES, in effetti la personalizzazione della didattica sicuramente sottiene a un discorso di inclusione, riconoscendo che quando uno studente ha stili e ritmi diversi di apprendimento è corretto che la scuola si adopere una loro personalizzazione. Ci sono poi altre note che vanno a specificare come possiamo attivare il salto di classe per questi ragazzi, che è sicuramente una procedura dal punto di vista metodologico ottima, abbiamo visto che l'accelerazione e la verticalizzazione sono due tra le metodologie più adeguate per questi ragazzini, ma voglio dire che vanno usati con cautela, con degli esperti e con un team che segue, perché può essere risolutivo ma anche no, ogni caso è a sé. È importante citare però che noi possiamo lavorare per questi ragazzi semplicemente applicando l'inclusione, una vera inclusione che deve essere per tutti gli studenti, quindi anche per i bambini plus dotati, conoscendo bene la tematica, qui il valore della formazione, attivando la legge in vigore, che è la legge 107 del 2015, che dice all'articolo 1 e in particolare all'articolo 1,29 che la scuola deve facilitare e sostenere la valorizzazione delle eccellenze, deve personalizzare i percorsi educativi e formativi dei nostri studenti, appunto sostenendo i loro stili e ritmi di apprendimento. Quindi diciamo che la norma stessa e la lungimiranza del lavoro della scuola che è sempre stato fatto, io penso già dal 77 si parlava di PDP, cioè i piani didattici personalizzati, senza dargli un'etichetta che riferissero ai DSA, ma riferissero appunto ai bisogni dei ragazzi per come si vincessero durante il loro percorso scolastico, è soltanto una questione di mettersi degli occhiali giusti, io spesso uso questi occhiali quando mi dicono cosa vuol dire il pensiero divergente mettersi occhiali giusti per guardare questi ragazzi, significa uscire dagli schemi, andare oltre e pensare che io posso avere una lente tonda, una lente quadrata, l'importante è che lenti mi metto per vederci bene, quindi in fondo basta un'attenzione diversa e anche una rivalutazione delle competenze dei nostri docenti, che mi permetto di dire sono veramente alte perché io avendo a che fare molto con anche enti stranieri perché collaboriamo con molti esperti stranieri e situazioni internazionali, i nostri insegnanti che già adoro li rivaluto moltissimo perché le competenze pedagogiche, le competenze metodologiche, anche l'attenzione all'individuo che ha la scuola italiana è un punto di forza nostro, rarissimo e che dobbiamo imparare a mettere a fuoco. Ecco, la dottoressa Castelli ci ha fatto anche un quadro della normativa che le mie guide sono ancora in fase di scrittura, quindi non c'è ancora ben chiara una linea da seguire in tutta Italia, però lei dirige un istituto scolastico, quello del Bragate di Frosinone e porta avanti anche il centro di supporto territoriale di Frosinone, che è diventato anche il capofilo di tutti i CTS del Lazio. Da diversi anni stai lavorando su questo tema, lei già è molto sensibile sul tema della custodazione. Ci spiega quanto è importante questo tema a scuola e a che punto siamo con la formazione dei docenti? Intanto questo è un tema estremamente importante proprio per l'identificazione di un bisogno educativo e quindi noi siamo nella fase che io chiamo di identificazione di questi studenti con plus dotazione. Siamo in un momento in cui è importante aprire una discussione sulle metodologie adatte per questi studenti. Come già ci ha detto anche la dottoressa Castelli, ci sono le opportunità da parte delle scuole per poter attivare dei percorsi personalizzati, ma credo molto che questa sia ancora invece una fase di studio, di analisi, perché come abbiamo individuato questi ragazzi possono rappresentare un 5% della nostra popolazione, quindi è chiaro che la scuola si deve interrogare su quali possono essere le metodologie più adatte, abbiamo avuto anche qualche spunto. Noi come scuola abbiamo partecipato anche a un'iniziativa Erasmus Talent che per confrontarci con quello che sta accadendo in Europa, abbiamo scoperto che in Europa su questo tema sono un po' più avanti, ma noi credo che ci distinguiamo in modo particolare sull'inclusione. Noi siamo anche, come c'è detto, un centro territoriale di supporto e quindi come centro territoriale di supporto parlare di inclusione e parlare di buone pratiche è un nostro obiettivo. È molto importante che se ne parli di questo tema, come avete visto c'è stato il tavolo tecnico che ancora non ha terminato i suoi lavori, però è ovvio che come scuola ci dobbiamo interrogare quali sono invece le metodologie più adatte, quindi il confronto, l'opportunità della discussione e tutte le iniziative che i centri territoriali possono dare, ecco, è proprio il momento che ci permette, come vi dicevo prima, individuare un bisogno educativo e soprattutto identificare questi studenti. Sentire gli esperti facilita il nostro lavoro, confrontarci con quella che è l'esperienza, chiamiamola un po' così, delle persone specializzate, aiuta la scuola a individuare questi bisogni educativi. Poi lo strumento, certo, un piano personalizzato, ma io credo molto nella discussione, come ci diceva anche la dottoressa Castelli, il confronto con i professori pionieri su questo tema, ci aiuta a vedere quali sono le strategie che hanno trovato proprio per affrontare questo bisogno educativo. Da questo confronto, da un'analisi sulle metodologie, ecco, noi ci auguriamo che presto possiamo arrivare, ovviamente se è il caso, a delle linee nazionali che possano permetterci di meglio individuare il fenomeno nell'ambito della scuola. Ecco, vostro Giona, diciamo che lei parlava di inclusione, diciamo che fino ad oggi, se noi pensiamo alla curva gaussiana degli studenti, si è sempre trascurata quella parte destra, quella degli studenti bravi, tra virgolette, come se fossero bravi e fosse già sufficiente, trascurando invece tutti gli aspetti inerenti allo sviluppo e alla crescita, anche dal punto di vista delle difficoltà emotive e relazionali. Lei oggi si dice, insieme alla dottoressa Castelli, che è invece importante interessarsi anche di quel 5% circa di ragazzi della parte destra di questa curva, che comunque hanno, anche se hanno delle capacità, vanno incontro anche a altri tipi di difficoltà, come appunto quelle relazionali e quelle, diciamo, di inclusione. Quando è importante occuparsi di questi ragazzi, anche nel tema di tutta la classe che viaggia insieme? Il tema dell'inclusione è un tema estremamente importante. È chiaro che noi abbiamo avuto una grande attenzione, come ci diceva, per i ragazzi con le difficoltà. Questi invece sono dei ragazzi che possono aiutare la didattica, perché attraverso il loro estro, le loro capacità, che possono essere analizzate, studiate e viste, ci possono contribuire in una migliore didattica per tutti. La scuola è chiaro che ha un interesse per tutti gli studenti e questi sono dei ragazzi speciali e come tali hanno bisogno della nostra attenzione. Sì, la scuola, chiaramente, trovando dei ragazzi che tutto sommato alla fine rispondono agli obiettivi della scuola, è un po' più facile che magari non ci abbiamo prestato quella attenzione che, presumo invece, debbano avere. È proprio dall'analisi, dallo studio e dal confronto che vedremo come, ad esempio, con dei confidi di realtà, con delle accelerazioni, con quegli strumenti che riteniamo nella discussione accademica siano gli strumenti più adatti, ecco possiamo arrivare a una migliore didattica anche per questi gruppi distretti. Il mio problema è sempre quello di di non vanificare questi grandi doni di questi studenti e quindi l'obiettivo per ognuno è di cercare di arrivare ai loro sogni, alle loro capacità, ai loro estri e quindi, ecco, portare questo tema all'interno della scuola. Come vedete siamo nel mondo dell'inclusione dove anche chi ha una capacità magari superiore alla media non si senta poi escluso per altri motivi, no? Che poi la preoccupazione è più grande che in questo momento, diciamo, porta la scuola a interrogarsi su questo tema. Come sempre siamo ancora nella fase della sperimentazione, ci ricordava la dottoressa che lei è tanti anni che lavora su questo tema, la scuola come sempre, no? È un po' un elefante, ci mette un poco magari per partire, però di sicuro degli strumenti già ci sono, identificarli. Ecco, no? Quella fase della identificazione, la fase dell'individuazione del bisogno educativo è la fase che in questo momento sta affrontando la scuola. Ecco perché i centri territoriali cercano in qualche modo, no? Di parlare di questo tema perché il confrontarci su questo tema e soprattutto su questi numeri, che sono dei numeri importanti, ci porta appunto a una discussione metodologica, a un miglioramento delle nostre pratiche didattiche. Ecco, dottoressa Castelli, stessa domanda anche per lei. Il professor John ci diceva appunto di questi ragazzi che parlava anche del rischio di perdersi, perché non è detto essere prosodati vuol dire sempre avere un futuro rosio anche dal punto di vista scolastico, c'è il rischio di perdersi. E quindi quando è importante appunto occuparsi della prosodazione a scuola? Allora, diciamo che ci sono degli argomenti interessantissimi e il motivo per cui ce ne dobbiamo occupare. Intanto perché se ci occupiamo dei bambini e dei ragazzi ci dobbiamo occupare di tutti i bambini e ragazzi, sembra quasi scontato la palissiano, ma per molti anni questi ragazzini sono risultati invisibili e non per volontà, per non capacità, ma perché non c'era appunto una conoscenza adeguata. Vorrei ribadire appunto che la prosodazione non è una diagnosi, non è una malattia, è un dono. Sono delle capacità, dei talenti che però afferiscono a un funzionamento differente dalla media. Intercettare questo bisogno, come diceva il professor John, sono molto d'accordo sulla sua analisi, è fondamentale e mettere anche a frutto tutto quel lavoro che tutta la nostra scuola fa in merito alle metodologie innovative, perché la nostra scuola lavora tanto su questo, e in merito anche all'inclusione. È vero che la scuola italiana è veramente il capofila dell'inclusione in Europa, deve completarla, diciamo come diceva lei dottor Gervasio, sulla parte destra della curva gaussiana. Perché? Perché annesso però alla prosodazione ci sono quelli che noi chiamiamo i fattori di rischio e non voglio, voglio dare sempre una concezione positiva della tematica, però dobbiamo essere anche consapevoli che le persone che hanno dei bisogni particolari, come dicevamo, sono soggetti a che cosa? Ad esempio, poiché se un sistema è troppo omologante o livellante, questi ragazzini si sentono letteralmente dei pesci fuor d'acqua, non si sentono parte del gruppo, non si sentono parte del sistema in cui sono inseriti, non si sentono accolti nei loro veri bisogni e quindi il rischio di demotivazione sottende poi al sottorendimento e anche a una frustrazione tale che può portare addirittura alla dispersione scolastica di questi ragazzi. Allora, le derive quali sono? Sicuramente sono dal punto di vista scolastico un fallimento per il nostro sistema scuola, perché se un ragazzo abbandona la responsabilità ce la dobbiamo prendere. Dall'altra parte è però un problema di proiezione e di prospettive verso il futuro e tutta quella parte che riguarda le competenze non prettamente accademiche e didattiche, ma che da più tempo continuiamo a dire che sono così fondamentali tanto quanto l'apprendimento didattico, cioè quelle benedette competenze socio-motivo-relazionali, che sono la qualità che fa la differenza di un intervento educativo e formativo della scuola sui ragazzi, ma anche della famiglia sui ragazzi, dei territori in generale, dove diamo un valore aggiunto alla nostra azione formativa ed educativa e siamo un po' delle guide rispetto alla proiezione di questi ragazzi. Sicuramente con queste qualità noi rischiamo in una situazione troppo omologante e non accogliente di disperderlo questo potenziale. In primis la battuta è a discapito della serenità e del benessere di questi ragazzi, ma poi se lo guardiamo in un sistema più ampio, quale siamo noi, è una dispersione che ha un danno per tutta la collettività, perché se il nostro scopo è creare dei cittadini, guidare alla creazione di cittadini consapevoli e competenti, inseriti in un mondo sicuramente complesso, ma pieno di sfide e anche di progetti che possono migliorare la qualità della vita di tutti, le risorse di questi ragazzi diventano veramente importanti per la collettività. Quindi abbiamo un doppio aspetto, un aspetto individuale dove dobbiamo promuovere il benessere e la salute di questi studenti e dall'altra parte un benessere per la collettività. Quindi il nostro impegno credo che sia un impegno importante e la presenza di questi studenti può dare valore a tutti, valore a se stessi e valore anche alla meritocrazia e alla professionalità dei docenti, perché io lo dico sempre, se un docente può aver accompagnato un ragazzo di qualità a fare un percorso e metterlo a servizio alla collettività, penso che possa essere soltanto che orgoglioso di questo, allo stesso modo di come accompagniamo un ragazzino in difficoltà. E quindi credo che il tema sia un tema fondamentale proprio per il nostro futuro, visto anche i tempi che stiamo vivendo, non sono dei tempi così sereni. Quindi sicuramente una bella sfida educativa. Ecco, parlavamo dell'importanza di parlare di questi temi, quindi organizzare anche degli appuntamenti e degli incontri. C'è stato a maggio un convegno svolto a Cassino, verso l'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, proprio sulla Prusdorazione. Il prossimo 24 novembre si svolgerà a Roma un seminario formativo regionale proprio su questo tema. Ecco, una domanda ad entrambi. Quali sono, quanto sono importanti questi appuntamenti e quali sono i vostri obiettivi? Dottoressa Castelli, insieme a lei. Allora, intanto ringrazio assolutamente la disponibilità del territorio e le persone che hanno lavorato per realizzare il convegno università di Cassino. Entrare nelle massime istituzioni è fondamentale. Come dicevo prima, è importante dare linee generali. Volevo anche dire che il lavoro delle linee guida, in realtà noi l'abbiamo terminato, aspettavamo alla firma del Ministro, saranno da rivedere adesso. Però insomma, il lavoro grosso era stato fatto. È vero però che in attesa di istruzioni superiori, ok, noi non ci fermiamo perché altrimenti non si muoverebbe la scuola. È vero che è un po' elefantiaco, professor Giorno, ma è anche tanto attenta. E la predisposizione di persone illuminate della scuola, dirigenti, insegnanti, insomma, ci mette sicuramente in una buona condizione. La volontà cambia tante cose, no? Quindi è la preparazione. Perciò questi eventi sono importanti per disseminare, per portare appunto il bisogno e cogliere il bisogno. È doppio il motivo. Raccogliamo il bisogno, lo evidenziamo. E questo ha permesso di incontrarci con il professor Giorno, il suo staff e la sua scuola. È stato un incontro, diciamo, proprio anche a livello di modo di muoverci che ci ha trovato molto in sintonia e ci ha permesso appunto di ideare questo progetto del 24 di novembre. Ci tengo a dire che sarà formativo quindi la partecipazione delle scuole del Lazio. È un primo segno di dire che si può lavorare con una vera rete territoriale. Lavorare in rete, secondo me, è la parola chiave, dove tutte le figure adeguate, no? Che ruotano intorno ai percorsi dei ragazzi e dei bambini, insieme si mettono, mettono insieme le loro competenze e costruiscono appunto dei modelli virtuosi di collaborazione. L'obiettivo qual è? Penso che l'obiettivo del seminario sia quello di portare a una platea più ampia, in questo caso, delle scuole del Lazio, la tematica, il bisogno, perché dobbiamo occuparci di questi ragazzi e dare già alcune indicazioni strategiche. Ovviamente l'obiettivo per quanto mi riguarda è quello di portare una formazione specifica che metta in condizione gli insegnanti, in questo caso afferenti ai CTS del Lazio, capofila a quello del professor Giona, ad avere già dei primi strumenti, una prima modalità osservativa anche per l'individuazione osservativa in classe, che si può fare, prima di passare alla parte valutativa che spetta i clinici e lavorare con questi ragazzi perché la media ci dice che ce n'è almeno uno per classe. Sono tantissimi e molti di loro invisibili in più. Quindi sicuramente può servire questo seminario. E poi spero di fare tante cose col professor Giona nel Lazio, io me lo auguro. Ecco, professor Giona, la dottoressa Castelli diceva che voi siete molto impegnati, siete proprio in prima linea su questo tema. Il seminario del 24 novembre a Roma è un esempio. Ci spiega dove prendete questa forza nell'andare avanti in queste iniziative. Nella realtà, come è anche un po' il titolo di questa iniziativa, la plus dotazione è un nuovo orizzonte per l'innovazione didattica e come tale ha bisogno e necessità di essere nutrito. Mi ritrovo, vedi dottor Gervasio, in tutto quello che la dottoressa Castelli ha evidenziato. È chiaro che siamo ancora, come ci diceva, nella fase di identificazione, nella fase in cui dobbiamo capire quali sono i bisogni, i socio emotivo relazionali, con l'obiettivo dell'ampliamento delle prospettive di questi studenti. Quindi il momento è quello di ampliare la platea che conosce questo tema. Qualche scuola come la mia ha già provato ad interrogarsi su questi talenti. Noi avendo all'interno un liceo musicale veniamo spesso in contatto con un talento particolare, che è poi il talento e l'amore per questa scienza e capire che esistono questi ragazzi che hanno un bisogno educativo o speciale, ecco, è come ripeto, è un nuovo orizzonte, un nuovo orizzonte dove si lavora e si deve quindi un po' andare su una discussione che sia invece anche sulle metodologie e gli approcci da avere. Un altro piccolo aspetto che credo abbia bisogno questa discussione è cercare di capire in quale fase. È chiaro che in ogni fase del mondo, della scuola e della vita avere un'informazione in più sui nostri studenti è sempre utile, però si può cominciare, si può cominciare presto, si può cominciare già nelle prime fasi delle scuole, degli studi comprensivi per poi arrivare alle superiori e quindi discutere, analizzare, studiare l'innovazione didattica, ecco, rappresenta un tema che certamente c'è il territoriale di supporto come già hanno fatto per l'inclusione, chiamiamolo così, quello che lei ha chiamato la prima fetta della gaussiana, ecco oggi rappresenta invece la totalità degli studenti includendo anche queste nuove, diciamo, questi nuovi traguardi, nuove necessità formative. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Dottoressa Castelli, cosa può fare, che fino ad essere ho parlato di questi ragazzi più snotati delle difficoltà, ma cosa può fare chi cerca un aiuto per un bambino, un ragazzo gifted, sia esso un genitore o un docente? Questa è una domanda importantissima, perché quello che si vuole fare anche con l'obiettivo del seminario, gli interventi che noi facciamo, io ho incontrato centinaia e centinaia di famiglie di bambini plus dotati italiani, tantissimi. Molti non lo vogliono dire a scuola, non lo vogliono raccontare perché temono una sorta di emarginazione al contrario. Noi dobbiamo fare un lavoro importante anche con le famiglie, dobbiamo creare un'alleanza vera tra la scuola, la famiglia, il territorio e l'istituzione, che sostenga anche i genitori di questi bambini. Perché a volte il pregiudizio sulla tematica, il nome stesso, plus dotazione, sono dotato di più, non ho bisogno di niente. In realtà in tutto il mondo vengono chiamati gifted children, cioè bambini che portano dei doni. Forse questo è un termine un po' più corretto per far capire chi sono e toglierebbe tutto questo aspetto di prestazione e di anche supponenza che sembra questo nome possa avere all'interno. In realtà l'ideale sarebbe proprio che è la scuola che con la sua sensibilità, osservazione e conoscenza indirizza i genitori, perché molto spesso i genitori non conoscono. è importante ribadire che la plus dotazione è comunque su base biologico-genetica prima di tutto. Non si ha la plus dotazione e non si diventa plus dotati. Io posso potenziare le mie capacità, ma non divento plus dotato. È una condizione particolare che riguarda tutta la persona nella sua globalità, come dicevamo brevemente all'inizio. Quindi è veramente un fattore democratico, mi viene da dire. E cosa succede? Che spesso chi arriva al suo traguardo di successo personale, mi viene da dire, perché il successo a scuola è una fettina del successo personale. Realizzarsi come persona è una cosa un po' più complicata. Spesso molti di loro non arrivano al successo personale, perché magari nascono in un ambiente che non è supportivo culturalmente, economicamente. Noi sappiamo quanto l'ambiente incide nel percorso di tutti i nostri ragazzi, anche di questi ragazzi. Quindi a volte scoprire la plus dotazione grazie all'intervento della scuola può dare veramente una svolta alla vita di questi bambini che magari nascono in ambienti poco supportivi. Quindi cosa possiamo fare? Il mio ente chiaramente io lo do a disposizione di tutti gli insegnanti che vogliono entrare in contatto con noi. Noi negli ultimi due anni abbiamo formato più di 3500 insegnanti, è un numero enorme. Abbiamo formato tantissime scuole, siamo in contatto con moltissimi insegnanti anche personalmente per seguire i percorsi di questi ragazzini. Abbiamo incontrato tantissime famiglie, abbiamo disseminato moltissimo, più di 10.000 persone sono entrate in contatto con noi negli ultimi italiani. È un numero enorme che muoviamo, vuol dire che il bisogno è enorme. Quindi possiamo consigliare, indirizzare, aiutare, aiutare a capire la tematica, aprire gli occhi, a togliere anche il sospetto della misdiagnosis, perché quando c'è una comorbidità va riconosciuta ed è importantissimo. Ma quando non c'è va assolutamente chiarito, perché inserire un bambino che mi viene da dire semplicemente è plusdotato in un percorso, ad esempio per ADHD, gli fa del danno. Invece gli fa altrettanto danno non capire che è plusdotato con una comorbidità, ad esempio un DSA. Io sto seguendo adesso moltissimi ragazzi che a 15 anni abbiamo scoperto che sono, in questo profilo che chiamiamo di doppia eccezionalità, plusdotati e DSA. Voi capite che scoprirlo, e qui mi riallaccio alle parole del professor Giona, non c'è un'età, c'è la precocità. Più siamo precoci nell'individuare, più facciamo il nostro lavoro, perché scoprire questa cosa a 15 anni si può fare, io voglio dare speranza sempre, si può fare, però è chiaro che è più complesso che farlo con un bambino piccolo. Quindi più siamo attenti e più individuiamo precocemente e possiamo cambiare in positivo la traiettoria di sviluppo di questi bambini, dargli benessere e rendergli la scuola o la famiglia un luogo felice in cui crescere. Perché io uso spesso questa parola felicità, sembra una parola banale, per me è una parola invece importante, ricca di significato. Lo diceva anche la Montessori, se noi rendiamo un bambino a scuola felice abbiamo fatto gran parte del nostro lavoro. Quindi viva la felicità, viva il benessere dei nostri studenti, viva però anche la umiltà di capire che se io non so come supportare, è molto importante in una rete di competenze imparare ognuno dall'altro. E questo credo che sia la chiave per rendere felici questi ragazzini. Grazie dottoressa Castello, un'ultima domanda anche a lei professor Giovan. Si parlava appunto della scuola, voi siete un istituto secondario di secondo grado, quindi i ragazzi arrivano già con un percorso alle spalle. Facciamo un esempio botanico. Se io curo la piantina dalla nascita riesco a indirizzarla bene e quindi la faccio crescere sana. Quando invece la prendo, come nel caso vostro, già con un bel percorso alle spalle, devo fare delle correzioni alla pianta che è cresciuta. E allora a questo punto, con questo esempio, vi faccio una domanda. Com'è possibile migliorare la formazione e l'attenzione sul tema della costruzione nel mondo della scuola, a partire proprio dai primi cicli di formazione? È chiaro che, come già abbiamo accennato, ogni volta che abbiamo un'informazione in più sui nostri studenti è sempre importante, perché riusciamo ad adeguare l'offerta formativa. Come si fa? Basta fornire degli strumenti per costruire quella che io chiamo la cassetta degli attrezzi, in grado di affrontare anche il tema dei doni della plus dotazione. Effettivamente mi piace di più parlare di ragazzi che hanno un dono, perché è meglio come nome. Vabbè, in Italia abbiamo scelto questo termine della plus dotazione, che qualche volta porta un po' a noi a parlare di quella supponenza che prima la dottoressa Castelli ci aveva accennato. Ecco, io ripeto, ecco perché siamo nel momento della individuazione, della discussione metodologica, per fornire questi strumenti. Ecco, la necessità della formazione. Molti docenti che chiedono questo tipo di nuova informazione e formazione è proprio per avere una cassetta degli attrezzi, sapere come posso includere anche questi studenti, come cambia la mia didattica in classe, quali sono le opportunità. Cioè, io ho fatto degli esempi prima, quindi posso accelerare, posso dare dei compiti di realtà, posso dargli degli stimoli nuovi, posso non farmi fermare mai. È importante l'accenno della comorbidità della DHD. Questa è la grande distinzione. Noi spesso entriamo in classe e vediamo questi ragazzi che sono un po' più agitati, però c'è chi è agitato perché ha una necessità di fare qualcosa in più e chi invece è agitato perché ha una difficoltà di apprendimento. Ecco, quando siamo in presenza di questi studenti, specialmente poi magari che hanno anche qualche altra comorbidità, una dislessia, una disortografia, qualche altra cosa. Ecco, avere uno strumento, avere una metodologia, riuscire attraverso un test a individuarli precocemente, riuscire ad avere una cassetta degli attrezzi, è questo l'obiettivo che il centro territoriale oggi si è dato e questa iniziativa è un esempio di discussione, appunto, diciamo come si dice, una discussione informata tra tecnici che si confrontano per migliorare la metodologia didattica e innovativa nel mondo delle scuole. Ecco, nel salutarci però l'ultimo, ecco, la dottessa Castelli gli voglio chiedere quali sono i prossimi appuntamenti e progetti. Allora, grazie della domanda perché è importante per noi, non ci fermiamo mai. Noi abbiamo tantissime attività stracurricolari per sostenere le capacità di questi ragazzi e promuovere le loro competenze socio-motivo-relazionali, li potete trovare sul nostro sito. Stiamo lavorando a un progetto europeo, speriamo che venga selezionato e questo potrà essere un importante altro spunto di argomento per l'approccio alla tematica. Abbiamo pubblicato su Sofia un corso per la prosodotazione, quindi anche individualmente con la carta del docente, chi fosse interessato può prendere informazioni e partecipare. Mi auguro che poi proseguiremo. Abbiamo aperto una porta col professor Giona nel Lazio, ma vorrei che poi apriamo questo benietto portone e cominciamo a lavorare in maniera abbastanza importante e in prospettiva abbiamo l'idea di realizzare un importante convegno internazionale l'anno prossimo, quindi spero a breve anche e chiaramente invitare tutte le persone che sono entrate in contatto con noi rispetto alla tematica. Voglio anche dire che noi abbiamo una collaborazione con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e una nostra squadra parteciperà a un concorso internazionale con i nostri ragazzini, perché con la mandata in azione del nuovo telescopio James Webb stiamo trovando una porzione di spazio, moltissimi sistemi solari simili al nostro e molti esopianeti. Ci sono quindi tanti corpi celesti che non hanno ancora un nome, c'è questo bellissimo concorso di INAF per dare un nome a questi nuovi corpi celesti e una nostra squadra parteciperà in questa kermesse internazionale per nominare questi nuovi corpi celesti. Ecco questo è un modo e la collaborazione sarà con un professore di fisica di una scuola superiore, quindi anche questo è un modo diverso per fare didattica coinvolgendo istituti nostri pubblici, che può essere il CNR, in questo caso l'Istituto Nazionale di Astrofisica e anche fare orientamento. Se mi posso permettere sulle scuole superiori, io adesso sto lavorando tantissimo, sono arrivate rincorse. È chiaro che noi abbiamo una cosa importante a nostra scuola, la verticalità degli istituti comprensivi. È stata una grande genialata secondo me, perché ci permette una continuità didattica di informazioni preziosissima sulla personalità dei ragazzini da ciclo in ciclo. Quindi il fatto poi di usare questa cosa bene, che in molti altri paesi non c'è, quindi questa è proprio una cifra della scuola italiana, usiamo le cose buone della scuola italiana per fare bene innovazione. Quando arriviamo alle superiori, questi ragazzi dovrebbero arrivare con un portfoglio e tutto un accompagnamento di informazioni che permetterà ai professori delle scuole di secondo grado di accoglierli nel modo adeguato e fare quel lavoro importantissimo di orientamento come life design per questi ragazzi. Perché un altro problema della loro dispersione o comunque demotivazione è che sono a volte in difficoltà nell'orientarsi, perché hanno così tanti interessi che fanno fatica e sbagliano a scegliere. Quindi avere anche un po' un ruolo di mentore della propria scuola superiore, che gli aiuta un po' a indirizzarsi, a capire bene se stessi dove si vogliono proiettare, sicuramente è un altro ruolo che possiamo assegnare alla scuola secondaria di secondo grado per i ragazzi più sdotati. Grazie comunque del tempo che ci avete dedicato. Grazie ad entrambi per essere stati con noi. Arrivederci, arrivederci dottore. A mai ora, grazie mille, a presto.